non si può 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 che sofferenza che sofferenza l'abbiamo vinta sì ma grazie a un ragazzino dal nome di pisilli grazie pisilli grazie grazie ragazzino sei l'esempio di 4 burattini anzi 4 più di 4 facciamo 10 11 10 11 burattini che nel primo tempo si se la sono fatta incartare dal venezia incartare ci hanno fatto ballare la samba nel primo tempo e non dovevano stare soltanto 1 a 0 eh meno male che si sono mangiati parecchi gol perché nel primo tempo il venezia doveva stare 2 o 3 a 0 poi meno male sono arrivati i gambi di juric ha messo baldanzi e soprattutto pisilli che hanno cambiato la partita da così a così il venezia poi era spompato non ne aveva più fortunatamente ci abbiamo creduto fino alla fine fino alla fine è arrivato prima il gol con un gran bucio di culo vogliamoci chiaro di cristante l'1 a 1 ma poi pisilli ragazzi pisilli one man show one man show pisilli ma che talento abbiamo in casa che giocatore abbiamo pisilli sarà il nostro futuro se continua così speriamo bene che non si monti la testa prima ha sfiorato il gol del del pareggio è andato vicinissimo così e poi dopo quella rete fantastica di testa che ha fatto esplodere uno stadio olimpico già stava mormorando già stava accusando il colpo giustamente eh perché vedere i certi scempi del genere una partita indegna per per larga parte delle della gara eh diciamo il primo tempo proprio da da cancellare dagli annali della storia partite della roma primo tempo mai più brutto di questo io non mi ricordo non vista di partite della roma eh ma tante 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 un primo tempo così brutto sotto tono alla merced dell'avversario io non l'ho mai vista mai c'è di buona questa reazione che è arrivata nel secondo tempo devo dire non me l'aspettavo nemmeno eh perché ho visto che il Venezia veniva avanti ha pure segnato il gol del 2 a 0 meno male che era in fuori gioco ho detto qui oggi la vedo proprio brutta e invece poi a volte i cambi vedete vengono azzeccati le partite vengono cambiate con le sostituzioni e l'importanza di avere calciatori come Pisilli giovani forti di gamba non non significa che che ha un'età da bambino già poco più di vent'anni quando sei bravo devi giocare quando sei bravo puoi avere qualsiasi età giochi sei il più forte e lo dimostri e Pisilli non è la prima volta che gioca così bene ha giocato sempre così sempre a continuità di rendimento a voglia a grinta a quella fame che gli mancano a molti mercenari che ancora vedo indossare la maglia della Roma che però devono rimanere perché non hanno trovato altre squadre con cui andare viva i Pisilli viva anche i Baldanzi sono giovani che potranno cambiare il corso della Roma speriamo con la loro freschezza con la loro dinamicità con la loro voglia di apparire di dare qualcosa di apportare le migliorie alla Roma che quella vista del primo tempo è qualcosa di vergognoso vergognoso ma a dir poco vergognoso eravamo in balia del Venezia che con tutto il rispetto non era Real Madrid non era il Manchester City non era l'Inter non era Napoli non era Juve magari vabbè certo ho esagerato un pochettino Real Madrid ecco facciamo Real Madrid e Manchester City perché magari anche queste squadre possono avere difficoltà con con tipo Venezia Empoli e compagnia cantando ma sembrava di vedere la Roma contro una squadra che faceva un altro sport giocavano a calcio e la Roma giocava a biglie vi ricordate il gioco delle biglie uguale uguale meno male che andata così sono contento soltanto del risultato non della prestazione a parte quella mezz'ora finale quella mezz'ora finale sì che ha avuto questa reazione dovuta ai nuovi entrati dovuta a gente che ha voglia di indossare questa maglia che ha voglia di apparire alla alla luce del sole come calciatori che possono indossare la maglia di da titolare e Pisilli la merita senza ombra di dubbio io oggi come oggi il primo al primo calciatore che darei la maglia da titolare anzi facciamo al secondo il primo è di bala infatti non ho capito per quale motivo oggi non abbia giocato forse perché sta male credo io ma il secondo è Pisilli Pisilli tieni questa è tua poi facciamo la formazione ad oggi è il calciatore più in forma della Roma non lo so voi cosa ne pensate tifosi romanisti e non scrivetelo qua sotto nei commenti ragazzi una bella sudata bella proprio una bella smartita c'avevo proprio l'ansia la tachicardia mi stava venendo dico guardate oggi pure non dobbiamo fare un risultato clamoroso è un risultato negativo è e sinceramente mai mi sarei aspettato la vittoria dopo un primo tempo e ed un inizio di secondo in quel in quel modo sono sincero non me l'aspettavo la vittoria invece è arrivata me la prendo me la prendo per carità sono tre punti proprio Deo gracias perché sono fondamentali però dobbiamo dare una sterzata Juric adesso è qualche giorno che sta alla Roma insomma che è arrivato è stato buttato subito là come mai neanche è stato presentato messo proprio così alla berlina però adesso avrà capito quali sono i calciatori fondamentali per la Roma e quali sono quelli da mettere da parte perché adesso l'abbiamo visto tutti quanti no chi dà il fritto e chi invece guarda la partita così così e si vede l'avversario sfrecciare a destra e a sinistra senza fare nulla perciò ragazzi buono il risultato finale ottima la vittoria ma scadente la prestazione devo essere onesto e sincero la penso così non so voi cosa qual è il vostro parere qual è il vostro pensiero scrivetelo qua sotto nei commenti sono molto curioso se avete visto la partita ovviamente tifosi della Roma e tifosi di altre squadre oltre che a lasciare un like per la sudata che ho fatto oggi neanche fa tanto caso si sta bene però ho sudato come se fosse ferragosto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao da Enrico Caffarelli